di registrazione delle presenze utili per l'Associazione dei commercialisti della provincia di Pordenona. Ancora qualche attimo, bene siamo pronti, a questo punto passerei la parola alla dottoressa Lidia Alessio Berni, direttrice dell'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa. Dottoressa Berni, se può cortesemente attivare il suo microfono, le slide verranno avviate da noi. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti e ringrazio per l'invito il Comune di Pordenone. Dovrebbe forse alzare un po' il livello del microfono. Sì, mi scuso ma questa è una piattaforma che non utilizziamo abitualmente. È meglio così? Avete un migliore ritorno? Sì. Oppure posso alzare anche di più? Come mi dovete dire voi? No, no, va bene così. Prova, prova, prova. Sì, va bene, va bene. Ok. Ottimo. Bene, buon pomeriggio a tutti di nuovo e grazie al Comune di Pordenone per questo invito, per essere stati coinvolti in questa occasione di illustrazione di quelle che sono le attività dell'Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa nell'ambito del progetto che ha avviato il Comune in collaborazione con i partner a sostegno delle imprese del territorio. Abbiamo pensato insieme agli organizzatori oggi di utilizzare questo spazio per darvi un'idea di quello che è il progetto di Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa e quindi potervi confermare la nostra disponibilità per le attività che ci riguardano anche nei confronti delle aziende che oggi partecipano e degli stakeholder che oggi partecipano a questa iniziativa e poi per illustrarvi brevemente quello è il pacchetto informativo che stiamo gestendo in questo momento. Quindi con la collaborazione che ho chiesto al dottor Puissa se possiamo avviare questa presentazione. Grazie. Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa è un ente strumentale della regione, quindi è un'agenzia a supporto dell'attività della regione. Qui ho riportato quella che è la nostra mission, in sostanza noi cerchiamo di capire meglio quali sono i fabbisogni delle imprese e trasferire questi fabbisogni nel mondo dell'attuazione delle misure a favore delle imprese. Allo stesso tempo cerchiamo di promuovere dei progetti congiunti anche insieme per esempio ai cluster, alle associazioni di categoria e alle imprese stesse. In questo momento, come mission, ci siamo dati l'obiettivo di contribuire nell'attuale congiuntura a fronteggiare l'emergenza, ma in prospettiva torneremo a quella che è l'attività per la quale la regione ha fondato questo ente, che è quella di aiutare le imprese a rendere concreti i loro nuovi progetti, quindi aiutarle a utilizzare tutte quelle che sono le risorse messe a disposizione del sistema regionale pubblico e privato. Quindi, volevamo andare un po' più nel dettaglio a mostrarvi quelle che sono le azioni che abbiamo messo nel piano strategico di agenzia. fondamentalmente ci occupiamo di condividere informazioni, quindi anche le informazioni di cui parla oggi esattamente questo progetto, potendole rendere disponibili a tutta la platea di aziende regionali interessate, ma anche eventuali investitori esterni, quindi anche con un'attività di attrazione di nuovi investimenti. La seconda attività che facciamo è quella di elaborare insieme alla regione le nuove misure che vengono proposte alle aziende, avendo avuto da loro magari indicazioni dei fabbisogni. E una terza attività che facciamo è quella di mettere in campo una serie di progetti per promuovere il nostro territorio e le nostre opportunità. Non lavoriamo mai da soli, ma in questo momento stiamo collaborando con i consorzi di sviluppo economico locale, con i cluster, in questo caso con il comune di Pordenone, e devo dire che nella fase particolare dell'emergenza con le associazioni di categoria per sviluppare un'attività di informazione rivolta alle imprese per far sì che tutti possano accedere alle misure regionali. Prego. Queste sono le azioni su cui stiamo lavorando. Agire nell'immediato è dedicata in particolare all'emergenza Covid, ed è quella di cui vi parlerò oggi. Attrazione di investimenti, diffondere le opportunità regionali, favorire l'innovazione con piattaforme digitali. Stiamo lavorando su progetti di open innovation e su progetti che intendono mettere a disposizione tutte le informazioni su un unico canale informatico unitario sul sito della regione. Lavoriamo insieme alla direzione lavoro alla sintonizzazione dei fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese con quello che è l'offerta formativa pubblica e privata. E infine, è una cosa su cui attiro la vostra attenzione, in questo momento si sta ragionando sull'aggiornamento dei settori di specializzazione per i finanziamenti alla ricerca e sviluppo e quindi è un'attività che vedrete diventare molto intensa a partire da settembre con dei gruppi di lavoro che coinvolgeranno tutte le imprese regionali. Andiamo alla slide successiva. Cosa è successo nella nostra organizzazione che in qualche modo era appena stata varata nel momento dell'emergenza? Abbiamo immaginato di fare fondamentalmente tre azioni per rispondere ai fabbisogni del sistema produttivo nell'emergenza Covid. La prima cosa è raccogliere i fabbisogni e aiutare la regione con questa attività a mettere in campo le misure che sono state varate. La seconda azione è diffondere la conoscenza di queste misure e nei mesi scorsi abbiamo promosso delle attività informative. In questo momento abbiamo anche realizzato dei piccoli video esplicativi che sono pubblicati su Facebook e su LinkedIn proprio per dare la possibilità di conoscere le linee contributive senza dover prendere in mano tutto il bando, la modulistica, ma intanto avere una prima conoscenza di base attraverso questi video. Il terzo elemento che stiamo sviluppando è quello di accompagnamento alle imprese nell'utilizzo di queste misure. Quello che stiamo facendo e stiamo progettando insieme alle associazioni di categoria è un pool di professionisti che saranno a disposizione delle imprese, cosiddetti angeli per la ripresa e saranno dei professionisti che aiuteranno proprio nella fase concreta di predisposizione delle domande, di ricerca delle informazioni, con una formazione unitaria per questo gruppo di lavoro in modo da allineare conoscenze interne con le conoscenze di chi poi è veramente a fianco delle imprese per risolvere i vari nodi burocratici che bisogna affrontare anche per le procedure contributive. In questo ambito abbiamo messo a punto una brochure perché ci è stata richiesta nel corso di questi incontri di divulgazione delle misure regionali, siccome si affastellavano diverse misure regionali e nazionali su diversi fronti che non sono solo quello monetario contributivo ma anche su altre opportunità, ci è stato richiesto da più interlocutori di mettere a disposizione uno strumento conoscitivo snello e quindi con le direzioni lavoro e la direzione attività produttive abbiamo pubblicato questa brochure che teniamo costantemente aggiornata che è pubblicata sul sito di Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa www.lavoroimpresa.fvg.it e oggi con voi volevo dare una rapida carrellata su quali sono le misure che promuoviamo in questo momento. A partire da questa brochure avete tutti i link per andare poi nel dettaglio e capire se è quello che può essere utile in questo momento per l'azienda e ho visto che su questo poi vi danno anche nell'ambito di questo progetto vi daranno accompagnamento e informazione e diciamo soprattutto da quanto abbiamo visto di questo progetto specifico una capacità anche di scegliere quali sono le misure più adeguate per il fabbisogno della singola azienda. Quindi abbiamo diviso un po' quelle che sono gli interventi in tre grandi capitoli. La parte di liquidità che conosciamo in queste settimane è stata molto sviluppata dalla direzione attività produttiva e dalla direzione lavoro e con le misure Covid per i codici ATECO ma anche con altre misure che sono aperte in questo momento. Il secondo tema sono gli interventi per il lavoro quindi interventi ovviamente in questa fase di mantenimento insomma del tessuto occupazionale anche con gli ammortizzatori ma in prospettiva e anche in questa fase con incentivi per l'occupazione anche a tempo determinato e ieri in assestamento è stata ultimamente potenziata questa misura e infine i cosiddetti noi chiamiamo interventi per il mercato e quindi interventi più di sistema su quale potrei anche ricondurre l'operazione di cui oggi insomma siamo partecipi quindi interventi che servono a connettere a mettere in evidenza i fabbisogni ad accompagnare i progetti concretamente verso i supporti che esistono quindi diciamo tutti i progetti che sono stati messi in campo per consentire alle aziende di mantenere le loro quote di mercato o comunque di ripensare la loro attività di riorganizzare l'attività. Vediamo brevemente le misure per la liquidità e in questo momento abbiamo la regione ha lavorato sia sulla parte accesso al credito che sulla parte contributi in conto capitale e ha lavorato sia su nuove misure sia anche per rendere diciamo alleggerire la posizione delle imprese rispetto agli impegni già già assunti quindi le sospensioni delle rate dei mutui e le operazioni che hanno accompagnato anche la possibilità di avere erogazioni di anticipata. Quindi le vediamo brevemente poi chiaramente i miei uffici sono a vostra disposizione per darvi un primo approfondimento ma anche direttamente potete contattare tutti i referenti che sono indicati nella brochure. Questo è uno dei due bandi che sono attualmente aperti su PORFES e che sono stati su questi tra l'altro trovate anche un video in pillole per avere proprio le indicazioni più specifiche in maniera veloce e questi due bandi sono stati varati dalla regione molto recentemente sono attualmente aperti. Il primo riguarda l'innovazione di processo e dell'organizzazione ed è uno strumento che potete utilizzare anche per rivedere la vostra tipologia di organizzazione nel momento in cui bisogna ottemperare anche a diverse normative in materia di sicurezza come anche può essere utilizzato se c'è stata una ricombinazione anche del prodotto che l'azienda sta commercializzando o producendo. Il secondo bando che è aperto in parallelo è relativo invece al supporto per la messa in sicurezza dell'azienda e comprende anche spese già rendicontate. Questa slide vi ricorda alcune misure straordinarie che sono state adottate per la sospensione dei termini, per la proroga dei termini, per avere erogazioni in via anticipata e qui trovate tutti i riferimenti sempre sul PORFESR. Vi ricordiamo anche che esistono delle forme di incentivazione sull'IRAP, questa è stata potenziata in questi ultimi mesi per quanto riguarda le assunzioni, quindi qui trovate un po' ricapitolate le principali misure agevolative. È aperto il canale del CATA per le imprese artigiane fino a fine ottobre, su questo anche trovate un video di presentazione con il direttore dottor Quaglio. Abbiamo voluto poi ricordare anche la parte di attività che la regione fa per tutto il mondo dei professionisti che come sapete in ambito europeo sono equiparati alla piccola e media impresa e devo dire che c'è un panel di iniziative coordinate dalla direzione lavoro e in particolare dal servizio innovazione e professioni dal direttore Roberto Cruci e dalla posizione organizzativa della dottoressa Canelli che negli anni hanno ampliato un po' il raggio di azione finanziando dall'avvio dell'attività professionale fino anche alle misure di sostegno con una forma di supporto per la maternità e la paternità, veramente è un pacchetto completo ed è sempre aperto e finanziato. Anche su questo trovate un video esplicativo sui nostri canali. Prego. E poi da qui in poi trovate una serie di informazioni riassuntive su quelli che sono gli strumenti per l'accesso al credito. In questa fase sono stati resi maggiormente accessibili e fruibili anche in chiave fronteggiamento dell'emergenza e quindi su queste non andrei nel dettaglio, avete anche un po' i riferimenti per i soggetti che se ne occupano, sicuramente è una tematica che in questo momento ha visto una grande attenzione da parte della regione, sia con il rifinanziamento delle misure, sia con la semplificazione di alcuni percorsi per accedere a questi benefici e sia con la sospensione delle rate dei molti agevolati. Quindi su questo chiederei magari di scorrere rapidamente la sabatina. Nella parte interventi per il lavoro trovate tutta una serie di informazioni invece per quanto riguarda le misure soprattutto adottate dalla direzione centrale lavoro e andiamo a vederle magari, guarderei solo la prima scheda e poi le altre in maniera più generale. Come sapete c'è un servizio della regione che si occupa in particolare di interfacciarsi con le imprese e queste sono le attività che vengono garantite e ci è sembrato importante mettere in luce che ci sono delle agevolazioni che non consistono solo in finanziamenti, non tanto in finanziamenti in agevolazioni ma anche proprio in un'attività concreta che viene posta in essere da colleghi a favore delle imprese in questo modo alleggerendo sia il carico di lavoro che i costi che le aziende dovrebbero altrimenti sostenere. Quindi tutte queste attività che vedete qui elencate, ricerca e selezione personale, individuazione e fabbisogni formativi, attivazione anche di percorsi di formazione ad hoc per gruppi di imprese, sono tutte attività che vengono erogate in forma gratuita e sono veramente su misura delle aziende, sono sicura che conoscete già questa articolazione dell'amministrazione regionale però in questo momento abbiamo voluto promuoverla anche ulteriormente per ampliare ancora di più l'ambito delle aziende che se ne avvalgono. Le schede successive invece sono dedicate tutte a forme di supporto e incentivazione per la formazione, la riqualificazione, le assunzioni di personale, il collocamento mirato, tutta una serie di iniziative che ci sembrava opportuno rendere maggiormente conoscibili con questa presentazione più sintetica. Quindi la possiamo magari scorrere più rapidamente e sicuramente in questo momento è una parte molto importante di attività che la regione copre con fondi cospicui e ripeto in questi giorni sono stati ulteriormente incrementati. Tra l'altro c'è una misura che supporta le assunzioni ampliandosi anche in questa fase le assunzioni a tempo determinato e quindi sta veramente sostenendo le imprese che sono riuscite a ripartire per le attività turistiche e commerciali anche in questa difficile estate. E quindi anche tutte le assunzioni a termine per la prima volta si è aperto anche a questa modalità proprio per cercare di accompagnare una riapertura che sappiamo essere molto difficile. Il terzo pilastro su cui abbiamo voluto dare informazioni è il sostegno a operazioni di riconversione e supporto per l'operatività. Ne abbiamo indicate in particolare due, possiamo scorrere. Uno è il progetto Industry Platform for FWG e quindi è un progetto più ampio che è portato avanti da tutti gli enti per la ricerca e i parchi scientifici. però abbiamo voluto ricordare che esiste questa iniziativa di prospettiva e quindi di utilizzarla, utilizzare EP4FWG e all'interno di EP4FWG abbiamo messo in evidenza il progetto Seife in Italy che è un progetto che accompagna anche qui con consulenza, affiancamento, le aziende che nella fase di emergenza hanno provato a rivedere la propria attività anche per proporci sui nuovi mercati che si sono aperti in questa fase. Immaginiamo tutto l'ambito delle lampade per la sanificazione, tecnicamente non è proprio sanificazione, ma diciamo in senso tecnico, tutta la parte dei DPI che per alcuni mesi è stato un tema e in questa fase invece tutto il termoscanner, aziende che partendo da produzioni diverse si sono affacciate su nuovi prodotti, nuovi processi e riconvertendo anche la propria filiera di approvvigionamento. Su questo c'è questo progetto di supporto realizzato da Friuli Innovazione, Confindustria Udine e area di ricerca. Qui ho voluto darvi una carrellata un po' più approfondita, possiamo anche volendo togliere la condivisione delle slide. In relazione a questo strumento che abbiamo messo a disposizione, l'obiettivo era proprio di favorire la conoscenza ancora di più rispetto alle fasi precedenti perché questa congiuntura che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo cambia la prospettiva del supporto regionale. Fino adesso noi abbiamo sempre messo a disposizione delle opportunità per le aziende che ne avevano bisogno per lo sviluppo dei propri progetti, ma in qualche modo possiamo considerarlo un'attività opzionale o aggiuntiva che un panel di aziende magari riteneva di poter avere interesse ad utilizzare. Oggi nella congiuntura che stiamo affrontando molto spesso si tratta di misure che devono arrivare a tutte le aziende. Pensiamo solo all'iniziativa che ha varato e realizzato la direzione attività produttiva, l'assessorato alle attività produttive che ha visto una raccolta di più di 25 mila richieste di contributo per quanto riguarda i contributi una tantum di ristoro per i danni dell'emergenza Covid. Quindi stiamo parlando di attività che devono arrivare con le loro informazioni a tutte le aziende, non solo magari al panel di aziende interessate per lo sviluppo dei propri progetti. Quello che noi aspicchiamo ovviamente è un ritorno alla normalità e quindi a un'operatività fisiologica che è quella ordinaria in cui un'azienda che deve sviluppare un nuovo progetto magari guarda anche alle opportunità che ci sono per potergli dare gambe, però in questo momento l'agenzia è stata impegnata veramente ad arrivare a tutti in maniera più capillare e consentire così di utilizzare veramente queste providenze che sono state messe in campo. Abbiamo dato spazio anche a informazioni su quello che sono gli incentivi nazionali ed è importante secondo noi che ci sia la capacità di tutte le aziende di poter andare sia sulle linee regionali sia sulle linee nazionali e perché non anche su quelle europee. Concludo dicendo che abbiamo davanti dei mesi sicuramente di una congiuntura ancora non facile e che l'agenzia lavoro sviluppo imprese metterà a disposizione la propria capacità di ascolto e di elaborazione almeno in due processi molto molto importanti. Una è la nuova programmazione comunitaria e l'altro è la messa a terra di nuove misure da parte in particolare delle attività produttive nell'ambito legislativi che si vanno sviluppando in questi mesi. Quindi siamo qui anche per ascoltare i vostri fabbisogni. Io ho un piccolo gruppo di lavoro specialistico, specializzato che vi può dare singolarmente informazioni approfondite su quello di cui vi ho fatto un'illustrazione più generale. Se avete piacere oggi di rivolgermi qualche domanda in chat cercherò di rispondere. È chiaro che io ho una conoscenza più approfondita su alcune linee e meno su altre perché è un numero molto ampio. Comunque sicuramente i nostri uffici sono a vostra disposizione e seguiamo con interesse questo progetto per quello che ci può dare anche in termini di recepire un fabbisogno che poi possiamo riportare sui vari tavoli. Quindi vi ringrazio e ripasso la parola agli ospiti. Bene, grazie dottoressa Alessio Verni per la sua presentazione. Le domande potranno essere fatte nella chat e come di consueto per questi webinar le faremo poi alla fine da quando sono terminate le presentazioni di tutti i relatori. Grazie ancora e ora passerei la parola al dottor Stefano Puissa per la sua presentazione. Bene, buonasera a tutti. Chiedo conferma dell'audio. Adesso passeremo a guardare il tema delle agevolazioni dal punto di vista delle imprese. Ringrazio la direttrice dottoressa Alessio Verni perché lo strumento che hanno implementato e come avete visto stanno continuando ad implementare con l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa è effettivamente d'aiuto in maniera molto importante per le imprese in un momento dove stanno venendo bombardate di input da più parti e di conseguenza non sempre è facile orientarsi. La concezione, come è stato concepito questo percorso, se vi ricordate, avevamo appositamente voluto partire prima da delle considerazioni generali per poi arrivare agli strumenti agevolativi. Questo perché? Perché purtroppo la maggior parte delle volte che ci troviamo a dover analizzare insieme ad un'impresa quali possono essere le opportunità agevolative per andare a sostenere un momento contingente come quello attuale piuttosto che invece la normale attività dell'impresa, la domanda che ci viene fatta dagli imprenditori è diteci quali sono gli strumenti a disposizione. In realtà bisogna un po' ribaltare, perché la questione sia efficace, bisogna un po' ribaltare il punto di vista e sarebbe opportuno dire io vorrei intraprendere queste azioni, quali sono gli strumenti a disposizione. Lo strumento agevolativo deve essere sempre in funzione della strategia aziendale affinché sia efficace. Troppo spesso le imprese hanno una posizione un po' passiva nei confronti degli strumenti agevolativi, aspettino che arrivi qualcosa e quando c'è qualcosa alla domanda fatidica cosa vuoi fare non hanno bene le idee chiare. Il percorso che avevamo fatto infatti era partito da un'introduzione di base per poter ragionare sul nostro modello di business e cosa potevamo fare per proseguire in questa situazione. Eravamo poi passati ad una gestione economico-finanziaria, seppur sempre in maniera divulgativa, quindi senza entrare troppo nei trecnicismi, ma per chiedersi cosa ci serve e siamo finalmente arrivati alle agevolazioni. L'ultimo step sarà invece sull'accesso al credito vero e proprio. Come sempre il contenuto del nostro intervento avrà un taglio molto operativo, infatti io cercherò anche di essere sintetico per lasciare poi spazio anche alle vostre domande e come vi dicevamo già nella fase introduttiva dell'intervento, il taglio operativo per noi vuol dire che oltre a fare un elenco delle normative, volevamo farvi vedere come si può fare una ricerca per continuare a essere aggiornati su questo tema. Il fatto di avere a disposizione un ente dedicato a questi aspetti è già un punto di forza notevole, però allo stesso tempo le normative essendo in continua evoluzione bisogna mettersela un po' da parte e capire che gli enti stessi si aggiornano continuamente e di conseguenza anche noi se vogliamo riuscire a sfruttare queste opportunità dobbiamo avere un atteggiamento più attivo restando aggiornati su queste tematiche. Gli strumenti di analisi, cosa andremo a vedere in questa breve presentazione? Le buone pratiche, best practices come abbiamo detto in inglese per definire una strategia agevolativa, la definizione di un panorama agevolativo, quindi cerchiamo un po' di riprendere quanto è stato detto fino adesso in maniera sintetica ma con un approccio strettamente operativo per poi arrivare alla scelta su quali agevolazioni andare a intervenire. Alla fine verso la conclusione dell'intervento sarà con le vostre domande e risposte adeguate. Adesso io come sempre inizio un webinar ponendovi a voi una domanda, cioè come abbiamo fatto nei due webinar precedenti ci chiediamo ma prima di andare a interloquire con qualcuno che si occupa di agevolazioni. A che domanda dobbiamo essere pronti ad rispondere? In questo caso eravamo orientati sull'ambito del Covid, abbiamo fatto una domanda molto semplice, abbiamo voluto quasi banalizzare ma per mantenere un linguaggio molto colloquiale e dobbiamo andare a vedere in funzione della strategia che voglio adottare, e qua faccio riferimento ai due webinar precedenti per uscire dal Covid, cosa mi serve? Cosa sto andando a cercare? La prima grossa differenziazione a nostro avviso diventa è un aiuto economico oppure un aiuto finanziario? Avete avuto modo di capire un po' la differenza tra economico e finanziario ma noi vediamo un aiuto economico, un aiuto da parte di un ente pubblico che di solito si trasforma in un contributo a fondo perduto che ci aiuta ad affrontare qualcosa che da soli non avremmo il coraggio o non avremmo le risorse per affrontarlo. Andando anche, passatemi il termine, a mitigare un po' il rischio dell'intervento stesso. Sono tutti gli interventi tipici della ricerca e sviluppo, ricerca e sviluppo che ha un fattore di rischio intrinseco e che in qualche modo grazie all'intervento pubblico riusciamo ad affrontare in maniera più veloce e con una leggera diminuzione del rischio legato a quel progetto. Questo è un aspetto più di natura economica, va ad intervenire proprio sul nostro modo di lavorare. Poi lo riprenderemo perché secondo me le azioni che sono state già illustrate prima sono tra le più centrate, specialmente quelle legate all'innovazione, rispetto al periodo che stiamo attraversando e al percorso che abbiamo fatto all'interno dei nostri webinar. Dall'altro lato ci sono gli aspetti puramente finanziari, quindi quando si parla di finanziario stiamo dicendo non è solo una questione economica oppure una questione leggermente diversa, io ho solo bisogno del denaro anche momentaneamente per poterlo fare. Però in questo caso l'ente pubblico interviene o rendendo più economico l'accesso al credito, quindi andando ad abbassare dei costi, tipicamente il tasso di interesse e i tassi delle garanzie, oppure mi permette di accedere al credito a dei canali che normalmente non avrei la possibilità di accedere per mancanza di determinati fattori, quali sempre ad esempio le garanzie. Una cosa molto importante che secondo me in Italia deve ancora svilupparsi è l'inserimento della mia azienda, la capacità di vedere l'azienda come imprenditore introdotta o inserita in un contesto sistemico, cioè noi sviluppiamo un'azienda all'interno di un territorio, nel nostro caso che è inserito all'interno di una regione autonoma e in qualche modo dobbiamo capire quali possono essere le possibili correlazioni e chiaramente anche sinergie col territorio che ci circonda. Territorio che in qualche modo viene mappato, sviluppato e incentivato da parte della struttura degli enti pubblici che lo governano. Capirete dopo quando parleremo brevemente dell'S3, quindi le SMAS Specialization Strategies che sono già state citate, che sempre di più le regioni, ma non solo a livello italiano ma a livello europeo, è stato chiesto loro da parte dell'Europa di capire bene quali sono le vocazioni territoriali che le contraddistinguono. Quindi quali sono quegli ambiti di intervento che in qualche modo vanno a caratterizzare quel determinato territorio. Vedremo dopo le analisi dei vari interventi, però dobbiamo immaginare che guardando gli aiuti pubblici dall'altro punto di vista, dal punto di vista dell'attuatore pubblico, chiaramente bisogna ragionare in termini di che impatto avranno gli aiuti che vengono portati a beneficio del territorio e le imprese sono uno degli attori che attuano questo beneficio. Di conseguenza dobbiamo anche capire quali sono le linee di sviluppo che vengono attuate nella nostra regione. Per questo motivo vedo di particolare importanza l'interazione tra le aziende, tra le imprese e gli enti che si stanno muovendo in questi termini. Specialmente in questo momento dove abbiamo appena sentito che le linee future di sviluppo della regione Friuli Venezia Giulia sono in fase di determinazione ed è in atto un dialogo tra la regione Friuli Venezia Giulia e il territorio attraverso le associazioni di categoria e gli altri attori dedicati. Però ecco questa è una cultura che all'estero è molto più sviluppata, cioè le aziende non ragionano solo come singole ma vanno a guardare cosa sta succedendo sul loro territorio e come possono aggregarsi o agganciarsi ad altri movimenti del tessuto imprenditoriale del territorio dove risiedono. Andiamo nel pratico, abbiamo spaccato quindi su quello che abbiamo detto fino adesso per fare un mini schema, attenzione che è uno schema molto semplificato per fini didattici, quindi non siamo stati attenti ad usare le parole corrette al 100% e via dicendo, ma molto di più al messaggio che volevamo dare. Abbiamo detto contributi in conto capitale, vedete la prima colonna, chiamati anche a fondo perduto per generalizzare, in questo caso gli enti pubblici che definiscono le politiche industriali sul territorio utilizzano queste agevolazioni per indirizzare le aziende a intraprendere delle azioni in funzione degli obiettivi generali che ritengono opportuno perseguire. In questo caso le caratteristiche principali sono un meccanismo generalmente ad approvazione, quindi io faccio una domanda e poi questa viene approvata da l'ente e di conseguenza io alla fine potrò fare il mio progetto e andarlo a rendicontare, piuttosto che negli ultimi anni si sono attivati anche dei meccanismi di incentivazione fiscale che in altre parti d'Europa costituiscono ad oggi una parte importante dei contributi a disposizione delle aziende. Dopo entreremo più nel dettaglio, adesso volevo prima partire dalla mappa generale per poi entrare nel singolo dettaglio. Quindi lo scopo di questi contributi, di questa prima famiglia, è quella di dire vado a aiutare le aziende in un loro progetto. Quindi per farlo l'ente ha bisogno di capire bene quali sono gli obiettivi, qual è la coerenza di quegli obiettivi con le politiche generali del territorio e via via dicendo. La seconda colonna invece entra in un altro ambito. In questo caso quello che l'azienda sta chiedendo è una cosa diversa, sta dicendo mi servono dei denari per poter portare avanti quello che ho ben in mente da fare. Allora in questo caso l'attenzione dell'ente che governa questa tipologia di agevolazioni non si concentra tanto sul tecnicismo che comunque fa parte della valutazione, ma bensì su tutti quelli sono i meccanismi e gli indici di sostenibilità finanziaria di quell'azienda e la trattativa che può essere portata avanti attraverso un ente privato convenzionato, tipicamente una banca o un ente a sua volta pubblico, una finanziaria, è molto simile alla trattativa bancaria o qualcosa di simile. Dobbiamo convincere qualcuno della bontà del nostro progetto e della nostra capacità di restituire quel denaro all'azienda. Questo lo voglio sottolineare molto bene perché molto spesso nei colloqui che abbiamo fatto con gli imprenditori in questo periodo tutti erano orientati ad acquisire denaro se possibile per sopperire un'emergenza che era evidente, però molto spesso tralasciavano di farsi la domanda fondamentale benissimo io adesso mi indebito per superare due mesi di criticità ma poi come sviluppo la mia attività per riuscire a restituire questo denaro. L'ultimo invece la terza colonna che noi abbiamo chiamato sovvenzione al sussidio in maniera impropria invece è un aiuto di solito di carattere generale, quindi non interviene su una situazione specifica, che va a fronteggiare una situazione contingente di breve periodo, va a fronteggiare un'emergenza o qualcosa di simile. In questo caso la valutazione è molto più, la missimilità è molto più generale perché non ci sono dei fini così specifici ma ad esempio basta che si verificano determinate condizioni, esempio tipico il calo del fatturato, anche la procedura e a me piace dire l'interlocuzione cioè il colloquio che noi dobbiamo aprire con un ente per poter ottenere un contributo di solito è molto più semplice proprio perché l'esigenza maggiore in questi casi è di intervenire in maniera veloce e rapida. Cosa cambia? Questi tre mondi sono dei mondi completamente diversi, ad esempio nel contributo in conto capitale, la prima colonna, io prima devo fare il progetto, dimostrare di averlo fatto e poi mi viene erogato il contributo. Quindi dal punto di vista finanziario molto spesso il peso finanziario ricade sulla mia azienda. È vero che negli anni grazie al meccanismo degli anticipi questa cosa è stata attenuata di molto ma il concetto fondamentale è che il denaro, il contributo che mi viene erogato diventa mio di diritto nel momento che io vado a espletare l'obbligazione che ho preso insieme all'ente pubblico presentando un progetto nel momento in cui io il progetto lo vado ad effettuare. Fino a quel momento gli anticipi sono degli anticipi cioè è del denaro imprestato diventerà mio quando il progetto si conclude. Conclude che non vuol dire al 100% esattamente come quello fatto quando sono partito in presentazione di domanda ma bensì deve essere comunque approvato dall'ente con cui ho presentato questa domanda. Importantissimo, lo ribadisco ancora una volta, tenete sempre aperto il canale di comunicazione con gli enti che erogano i contributi in tutto l'itinere del progetto perché molto spesso molti problemi si possono risolvere semplicemente dialogando nel mentre il progetto viene eseguito. Altre volte invece noi ci troviamo in situazioni più difficili quando l'impresa presenta la domanda di contributo, tiene l'opprovazione, se ne dimentica per un po' di tempo magari svolge correttamente il progetto ma arriva alla fine dicendo adesso devo fare il rendiconto e l'ente pubblico si aspetta di trovare esattamente la situazione come quella presentata in domanda perché non c'è stata nessuna interlocuzione nel frattempo. Se questo non avviene potete capire che perlomeno bisognerà dare delle spiegazioni molto forti su quanto è successo. Aspetto non da poco il denaro in questo caso non viene restituito e a fondo perduto. Però, e questo è chiaramente un vantaggio enorme, però per accedervi di conseguenza visto il vantaggio che possiamo ottenere preparatevi bisogna avere una progettualità. Il progetto deve essere, non sottovalutatelo, cioè dovete convincere qualcuno a mettere in gioco del denaro pubblico sul vostro progetto. Quindi non è presento compiere un modulo e le cose vanno in automatico. Non è questo il messaggio. In alcune situazioni la selezione può essere notevole. Gli ambiti più estremi a livello europeo quando vanno a cercare le aziende disruptive, cioè quelle piccole che proprio possono cambiare una situazione, arriviamo a tassi di successo anche del 2-3%, quindi molto bassi. Fortunatamente gli strumenti regionali di cui abbiamo parlato oggi hanno tassi completamente diversi, quindi non spaventatevi. Migliori, ovviamente. Richiede tempo. Fare un'agevolazione vuol dire conoscere il proprio progetto e spiegarlo. Quindi il dialogo con l'ente, l'ho detto prima, va mantenuto per tutta la durata del progetto. Attenzione che ci possono essere degli obblighi post-progetto. Un altro dibattito che abbiamo sempre con gli imprenditori è quello di dire, ah io il progetto l'ho finito, grazie, arrivederci, da domani vado via. E provate a pensarci un attimo, c'è qualcuno che sta investendo su un attore che può portare dei risultati sul territorio e ovviamente cercherà di garantirsi il fatto che quei risultati, almeno per un determinato periodo, portino dei benefici sul territorio. Vuoi in termini occupazionali, vuoi in termini di know-how, questo è indifferente, però state molto attenti agli obblighi post-progetto. L'impatto economico è molto interessante, l'abbiamo detto già prima, ed il focus del progetto è ben definito, poi lo riprenderemo. E funzionale, questa tipologia di agevolazione sono funzionali per la strategia di lungo periodo, di medio-lungo periodo dell'azienda, perché in qualche modo vuol dire, un'azienda che sa utilizzare questi strumenti, vuol dire che è integrata nelle dinamiche che vanno a catalitizzare il tessuto imprenditoriale e le politiche industriali del settore pubblico del territorio. Voltiamo pagina, contributi in conto interesse. In questo caso l'obiettivo dell'ente è farci ottenere un finanziamento ad un tasso interessante, fornendo a volte anche delle garanzie, quindi permettendoci di accedere a dei canali a cui potrebbe essere difficile accedere, altrimenti. Aspetto non da poco, in questo caso il denaro arriva prima e serve per attuare il progetto. Quindi l'aspetto finanziario in questa casa è proprio quello che l'ente pubblico vuole andare a risolvere. Viene ad aiutarci sul piano finanziario, ci impresta il denaro per poter procedere. Attenzione però che lo stesso denaro io poi lo dovrò andare a restituire negli anni, secondo il mio piano di ammortamento. Altro aspetto fondamentale, la copertura non è quasi mai al 100%. In questo periodo particolare abbiamo avuto qualche caso eccezionale, però normalmente l'impresa deve contribuire al finanziamento con mezzi propri. Magari sarà il 20% di capitale proprio, l'80% verrà aiutato da dei finanziamenti, come può essere esempi di casi frie o via dicendo che sono stati citati precedentemente. Anche qui molto spesso ci scontriamo, parliamo in maniera animata con gli imprenditori, per me dicono ma non è corretto. In realtà l'impegno che qualcuno mette, anche mettendo del denaro proprio, è sintomo, è un segnale molto forte di quanto noi stessi crediamo nel progetto in cui andiamo avanti. Quindi è normale che ci sia una quota di cofinanziamento. Tecnicamente non è detto che debba avvenire con un apporto, quindi potrebbe essere anche utilizzando risorse che l'impresa ha già all'interno dell'azienda. Il focus è comunque determinato, non è un prestito bancario libero da vincoli di utilizzo. Ci sono molti finanziamenti che sono dedicati a aspetti particolari, ad esempio finanziamenti per la ricerca e sviluppo. Anche in questo caso non è un contributo, però se io vado a prendermi un finanziamento che si basa su una prospettiva di investimento in ricerca e sviluppo e poi vado a costruire un capannone, non è detto che io non possa incorrere in dei problemi nel caso in cui qualcuno venga a dire ma sei sicuro che vada tutto bene? Anche questo è funzionale a logiche di lungo periodo, pericoloso se usato solo per aspetti contingenti. Ho preso del denaro in prestito, se lo vado a utilizzare per pagare le scadenze di brevissimo periodo e dopo non ho più fonti per andarlo a restituire, può essere un problema. Ultimo step, interventi generali accessibili a tutti, l'abbiamo detto così, quindi molto aperti, invece funzionale ad aspetti contingenti. Non l'ho voluto scrivere, una volta venivano chiamati anche finanziamenti a pioggia, cioè si interviene proprio, basta avere i requisiti e presentare domanda. A volte ci possono essere delle difficoltà di interpretazione normativa perché di solito quando si interviene in queste situazioni, essendo situazioni di emergenza, tutti i flussi anche di approvazione e di legiferazione da parte degli enti devono accelerare e non è sempre così facile regolamentarli e spesso in caso di errato utilizzo è necessario restituirlo con possibili sanzioni. In passato, quello su cui è da stare attenti, l'abbiamo visto con le azioni della Deggendorf una volta per chi ha seguito gli aspetti più tecnici, ci sono stati dei casi dove errati utilizzi da parte dell'ente pubblico, nel caso italiano era stato un ministero, l'Unione Europea ha richiesto la restituzione e l'azienda ha dovuto restituire. In linea di massima però normalmente le pratiche sono relativamente semplici. Qui non mi soffermo adesso perché veramente vado veloce per lasciare del tempo alle domande, però vedete questa è una tabella che vi riporta tutta una serie di contributi di agevolazioni che sono nate nel periodo Covid per cercare di far fronte alla situazione e che sono state già anche riprese nel documento precedentemente presentato, quello che io volevo farvi vedere, tutta questa norma al 80% ricadono in quest'ambito qua, quindi si è voluto intervenire in maniera veloce, dove si è detto guarda se tu hai avuto un calo del fatturato pari A hai diritto a questo, se tu hai avuto un A puoi accedere a quest'altro aspetto, di conseguenza siamo in quest'ambito. Importantissima a nostro modo di vedere invece quella proprio coerentemente anche con questo è stato detto all'interno del percorso è l'azione attualmente aperta, la 1-2-a-1 che è stata citata prima perché va a finanziarci l'innovazione di processo o l'innovazione organizzativa. Qua troverete anche le definizioni, sono definizioni tecniche ma guardate l'ampliamento della cosa, si parla di applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo, si parla di applicazione di metodi organizzativi nelle pratiche commerciali nell'organizzazione del luogo del lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa. Quindi si sta parlando di tutte quelle cose che noi abbiamo già analizzato che dovremmo in qualche modo di cercare di fare per reagire a una situazione di difficoltà. Allora avere la possibilità di accedere a strumenti di questo genere, devo dire che sembra il tempismo di quest'azione vista la situazione, a nostro avviso è stato veramente notevole. L'importanza delle S3, le strategie per la specializzazione intelligente. Ora cosa vuol dire? Le S3 a volte sono prese un po' come una seccatura, perché uno dice beh ma ci si può accedere solo se io entro nell'area agroalimentare, nelle filiere produttive strategiche, quindi la metalmeccanica, il sistema a casa, le tecnologie marittime o nello smart health. È vero perché la regione ha dovuto scegliere anche su che settori andare a intervenire. Noi ne siamo stati testimoni già nella tornata precedente, non ha scelto casualmente ma facendo delle indagini della raccolta di fabbisogni sul territorio che sono attualmente in atto per la programmazione successiva. Però la cosa importante è che anche solo l'occasione di far fermare un imprenditore a ragionare dicendo ma io dove mi inserisco, secondo me è un valore aggiunto. E vi dirò di più che dall'analisi delle S3 molte volte, oltre agli aspetti agevolativi, sono nate collaborazioni con altre aziende per andare a fare innovazione e a uscire magari da situazioni critiche, anche grazie a quelli che vengono chiamati progetti congiunti, tra imprese e tra imprese e denti di ricerca. Quindi un altro consiglio molto pratico che possiamo dirvi è, visto che in questo periodo si stanno determinando le linee strategiche, le filiere strategie, le strategie, specializzazione intelligente per la prossima programmazione, iniziate a chiedervi se la vostra azienda può entrarci oppure no, cosa sta cambiando e via dicendo. Sono degli ottimi sensori rispetto al cambiamento, alla direzione che sta prendendo la nostra regione per il futuro. Avere la possibilità anche di interagire a priori è una carta che sarebbe importante giocarsi. Salto il sito della regione perché è già stato illustrato le cose, chiaramente quando si parla di questa tipologia di interventi siamo in questa zona invece. Quelli che noi riteniamo molto funzionali alla strategia di lungo periodo. Qua troverete nelle slide anche dei link su dei siti di finanziamento dove andremo a ragionare invece su questa zona. Quindi troverete tutte le istruzioni laddove invece uno dice no, io non rientro nella prima colonna però posso andare a cercare del denaro per andare a sviluppare quello che viene dopo. C'è tutto l'ambito ministeriale della transizione 4.0 del voucher per gli innovation manager chiamati, quindi anche qui trovate dei siti che potete andare a verificare per capire se ci sono delle opportunità. Però volevo prima di concludere arrivare a quella che sono anche gli interreg o la cooperazione territoriale. Specialmente per le piccole e micro imprese magari da parte di settori che escono da quelli che sono gli ambiti precedenti. Per fugare ogni dubbio è impensabile che un'impresa da sola acceda a questo strumento che è uno strumento di animazione territoriale dove il principale scopo da parte degli enti pubblici, in questo caso addirittura transfrontalieri, quindi bisogna andare a ragionare su progetti tra due o più enti e nazioni confinanti. L'obiettivo principale è la ricaduta territoriale. Allora qual è il consiglio che io vi do specialmente se potete interagire con degli enti che si fanno portavoce di questi aspetti e in questo caso anche il comune di Porto Enone ha una notevole esperienza su questo settore. Se c'è una problematica diffusa e condivisa a un settore merceologico, a più imprese che in qualche modo hanno un elemento in comune che non deve essere necessariamente fanno la stessa cosa ma ad esempio appartengono ad una supply chain specifica, hanno un problema condiviso, allora un'idea può essere di dire guardate verifichiamo se sul territorio questo problema è sentito ed eventualmente ragioniamo con qualche ente che ci può aiutare nell'aggregazione ente o associazione di categoria o come volete voi che ci permetta di andare ad accedere in maniera aggregata all'interno di questi strumenti per risolvere dei problemi comuni. In passato per fare giusto un esempio noi avevamo lavorato su un progetto per l'acquacultura a cavallo tra imprese italiane e slovene perché si erano accorti che in qualche modo c'erano delle particolari malattie che erano un problema diffuso per tutte le aziende di quel settore nei due paesi e grazie alla collaborazione con gli enti scientifici e con l'università che si sono fatte portavoce di questo tema il programma doveva essere un'Italia e Slovenia se non ricordo male aveva finanziato la risoluzione di questi problemi definendo delle bris practice da condividere a tutti quanti. Chiaramente in questo caso la singola non è un aspetto a cui può accedere una singola impresa. Io mi fermerei qui visto che siamo arrivati alla scadenza del tempo e vi ringrazio lasciando la parola al mio collega per le eventuali domande. Bene, grazie dottor Puissa, direi che ora è arrivato il momento delle domande da porre sia all'ottor Puissa che ovviamente alla dottoressa Lidia Bernì, quindi potete inserire le domande nella chat e sarà mia cura leggerle ai relatori in maniera che possano presentare la loro esperienza e rispondere ai vari quesiti. Vediamo un po', ecco cominciano a arrivare. Allora la prima domanda, imprese del settore artigiano, sono comprese nella filiera casa della S3? Sì, senz'altro, non sono escluse, sono elegibili e potete verificare i codici a tecco nel bando e anche nella prossima programmazione sono sicuramente una parte del tessuto produttivo importante. Sono molto d'accordo con quello che si ricordava nell'intervento del dottor Puissa che è fondamentale seguire il percorso di aggiornamento della strategia di specializzazione intelligente, è molto utile e a breve, non a brevissimo ma comunque a breve, troverete sul sito della regione un questionario, non sottovalutate l'importanza di partecipare a questi questionari, se sono questionari sulla nuova programmazione i risultati devono essere presi in considerazione, quindi noi li strutturiamo in modo proprio da poter ricevere eventuali contributi e indirizzi da tutta la cittadinanza e tutte le imprese, quindi il suggerimento è di partecipare sempre a questi questionari e poi tramite associazioni in categoria, cluster, camere di commercio e partecipare al percorso di cosiddetto partenariato. Non è aria fritta, sono cose veramente importanti che domani decidono in che direzione si va con con i fondi e con le strategie. Bene, vediamo se c'è ancora qualche domanda. In attesa che eventuali domande vengano inserite nella chat, farei io una domanda alla dottoressa Bernì. Si sente parlare un po' di un prolungamento della programmazione 2014-2020, sempre a causa della pandemia, delle difficoltà di avviare, chiudere una programmazione e poi riavviarne un'altra. C'è qualche novità in tal senso? L'indicazione che sta dando l'autorità di gestione del FESR con cui ho partecipato agli incontri per la definizione 2021-2027 è quella che si sta ragionando da parte della Commissione europea di un biennio aggiuntivo all'attuale programmazione, ma in parallelo la partenza della nuova programmazione. Quindi per far arrivare velocemente i soldi aggiuntivi europei, fare un biennio aggiuntivo con le regole di questa programmazione, fermo restando che comunque il 21-27 parte con le regole nuove, però sapete che la partenza è sempre, ovviamente c'è un nuovo POR, sono regole leggermente diverse, quindi sembra che questa sia l'ipotesi su cui sta lavorando la Commissione europea. Sul sito della regione trovate proprio in questi giorni il pacchetto di presentazioni al partenariato delle direzioni verso cui si va per il 21-27, queste così piccole anticipazioni un pochino sono circolate anche in quel contesto. Bene, e per quanto riguarda il budget a sostegno di queste due annualità ulteriori? E questo non è stato definito, su questo non credo che abbiano dato indicazioni in maniera più così aperta. Sapete che quando vedrete il budget nazionale il peso del Fiori Venezia Giulia è attorno al 2% del PI nazionale, quindi normalmente la nostra chiave di riparto cosiddetta è più o meno attorno a quei valori. Poi io credo che in questa circostanza si terrà conto anche di altre variabili, quindi regioni che hanno dovuto spendere molto sul fronte dell'emergenza rispetto ad altre e quindi ci saranno sicuramente le cosiddette ponderazioni per arrivare a una chiave. Queste sono tutte, diciamo, mie considerazioni basate sulla possibile strada che prende questa operazione, ma non abbiamo ancora elementi su questo. Perfetto, la ringrazio e ancora qualche attimo per eventuali ulteriori domande nella chat. Direi che non ci sono ulteriori curiosità e quindi a questo punto credo che possiamo terminare la riunione. Ringraziamo la dottoressa Alessio Verni. Grazie a voi, grazie per l'invito e soprattutto molto apprezzato la sottolineatura che avete fatto di partecipare a questi processi di definizione delle strategie. Cioè veramente fate un bel lavoro se portate queste cose più vicino alle singole aziende, in modo che magari se lo diciamo noi non ci credono che è importante, se lo dicono a società di consulenza che sono proprio vicine al processo, è fondamentale esserci e dire la propria e anche ascoltare quali sono gli scenari che si propongono. Certo, senz'altro, faremo sicuramente del nostro meglio. Grazie. Bene, grazie ancora e buona serata. Arrivederci al prossimo webinar che si terrà lunedì 3 agosto sempre alle 17.30. Grazie ancora, arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie.